Cartellone ricco, quello del settembre isernino, appuntamento tradizionale dell'estate pentra, il primo dell'amministrazione Castrataro, concerti, teatro, gastronomia, lo start il 17 agosto con la compagnia Cast e lo spettacolo Killer Anu Killer in piazzetta San Felice, poi a seguire e quasi per un mese tantissimi altri eventi. Sempre la compagnia Cast sarà in scena all'auditorium con un nuovo spettacolo nato dal testo di Maurizio Veneziale 1943 e ancora un omaggio a Gian Battista Faralli della compagnia Arietè il 4 settembre, l'inizio del workshop di musica jazz a cura del tetracordo, sabato 3 settembre il festival della cultura gastronomica Sapere Sapori, giunto alla quinta edizione, mentre mercoledì 7 raccolti e racconti, uno show cooking con presentazione musicale, convegni, presentazioni di libri, mostre d'arte e fotografiche, il torneo interregionale di Scacchi, una rievocazione storica, il jazz e la canzone classica napoletana. Infine la grande musica, gli incanto napoletano, Emanuele Colandrea, Giovanni Truppi e l'evento più atteso James Senese in concerto in piazza Andrea Di Sernia, mercoledì 30 agosto. Su questo cartellone abbiamo lavorato tutti, tutta l'amministrazione, tutti i consiglieri, ognuno ha proposto quello che voleva o quello che immaginava per il settembre Sernino, ci ha lavorato tanto pure la Prologo, alla fine dopo un paio di mesi di lavoro duro è uscito fuori un bel cartellone, il cartellone prevede la concentrazione degli eventi più importanti, soprattutto fino alla fine di agosto, anche per motivi meteorologici, per fare in modo anche che ci sia più gente a partecipare e si spazia dall'enogastronomia, alla presentazione di libri, ai concerti, al teatro, in più punti della città, anche nelle contrade e nel quartiere di San Lazzaro. Si vogliono fare delle cose fatte bene o quantomeno cercando di raggiungere dei risultati importanti, bisogna essere ambiziosi e questo calendario rispecchia questo tipo di intendimenti.